a certe stagioni della storia civile italiana e alle mode lanciate dallo sviluppo economico capitalistico e sui suoi rapporti con la società. Il terzo, che dà il titolo alla raccolta, e il quarto, che si intitola Basta contare, si strutturano in una forma autobiografica, anche se non trattata in prima persona, nella quale gli scarti, per così dire, letterari, si estrinsecano nel modo di scegliere e descrivere ambienti e vicende e soprattutto nel complesso delle varie considerazioni che l'autore fa su cose e persone per lo più familiari. Il clima onirico visionario che pervade le pagine del primo e del secondo racconto produce, ovviamente in contesti differenti, il viaggio in aereo nel primo e la proiezione e identificazione con una squallida bestia selvatica nel secondo, uno slittamento progressivo di situazioni che preludono a esiti imprevisti ed efficaci sul piano della soluzione narrativa e dell'impianto fantastico. Certo, la caratteristica personale e o professionale dell'autore viene fuori soprattutto nell'uso del lessico, nel generale approccio linguistico, nelle scelte espressive, nella formulazione sintattica dell'assunto verbale. Si può dire che in tutte le pagine del libro, Tim Monieri dimostra un'ottima padronanza della scrittura in prosa, riducendola e riconducendola in quell'alveo classico della migliore tradizione nazionale. C'è inoltre una sapiente attenzione all'andamento ipotattico del periodo e un'agile frequentazione dei più comuni modi di dire, di moderni neologismi e di frasi correnti. È nel contempo un uso fluido del linguaggio in cui l'andamento piano e scorrevole appunto del discorso consente alla parola di effondere il suo intero valore semantico, al di là di possibili offuscamenti allusivi o di abbaglianti splendori di traslitterazione e di suggestioni aggiunte. È così che nasce una storia, è una gradevole opportunità che si offre al lettore contemporaneo, fin troppo avvezzo alla ridondante piattezza, se non alla sciattezza, della corrente comunicazione mass mediale. Tanto più apprezzabile in quanto l'autore potrebbe, più o meno inconsapevolmente, risentire di quei sottili perniciosi germi infettivi prodotti dalle cosiddette, tra virgolette, malattie professionali inerenti al mestiere giornalistico e maggiormente a quello televisivo. Ne parleremo se ci sarà una domanda, quali sono queste malattie professionali, ve lo dirò dopo. Dico potrebbe perché in realtà accade qui, nel caso del libro che noi presentiamo, accade qui il contrario. Timonieri arricchisce e vivacizza dall'interno, dal nocciolo dell'espressione creativa, la sua abilità di comunicare. Vedi, a proposito, l'ultimo racconto dal titolo Basta contare. Del valore ignomico e morale di questi testi non parlerò, perché sono stati ben messi in risalto dalla nota introduttiva di Arturo Bernava. Buona lettura. Ottimo, veramente siete stati bravissimi, grazie. È così che finisce una presentazione, ma non è finita qui, perché adesso abbiamo due elettrici e quindi chi è la prima che si vuole cimentare? Angelisa, vieni, vuoi venire qui? Sì. Anche perché, non so se è una scelta tua oppure ti è stato chiesto proprio di leggere così, no? No, no, se mi si interrompe, devo dire che Angelisa Bianco legge questa introduzione al mio libro, anche perché lei è la protagonista attuale di una delle trasmissioni più trascinanti di opinione, e lei è la protagonista unica, è una persona molto fine, di grande intelletto e anche di grande cultura, e non è un modo di fare, è una persona molto sensibile e quindi le ho chiesto di fare questa presentazione per questo motivo ben preciso. Prego Angelisa. Bene, quindi ci leggerai? Allora, no, prima di tutto io voglio ringraziare Umberto, voglio ringraziare tutti quanti per essere qui questa sera, perché Umberto è un carissimo amico ormai da tantissimi anni e in questi anni abbiamo approfondito veramente la nostra amicizia, ho scoperto queste sue doti e dico la verità che mi sta spingendo a scrivere, ma io sono un po' regalcitrante. Però ecco, prima di questo io vorrei leggere un biglietto che un caro amico di Umberto, che non vuole leggere, li ha mandato, siccome mi ha commosso perché mi sono ritrovata nelle sue parole. Allora, un libro piccolo di dimensioni, grande di contenuti, in cui Umberto ci propone dei racconti, alcuni di fantasia, uno dichiaratamente autobiografico, con una prosa scorrevole, semplice ed immediata, che rispecchia le ben note caratteristiche di grande comunicatore e dell'autore. Forse per modestia Umberto Timonieri fa precedere da altri racconti l'autobiografia, in cui ci fa rivivere la sua giovinezza, il desiderio legittimato dai risultati di affermarsi nel campo dello sport e poi, un po' per volta, il suo scivolare in un buio sempre più profondo. Tutto questo ce lo partecipa senza pietismi verso se stesso o autocommiserazione ed è a questo punto che chi legge si trova di fronte al racconto di una grande storia d'amore, quello dell'autore con Alba Chiara, la donna che gli è sempre stata vicino, che con la sua preziosa collaborazione e il suo incoraggiamento gli ha reso possibile proseguire nella strada in cui si era incamminato, basata sulla comunicazione anche visiva, una sfida impossibile se il suo cammino non fosse stato illuminato da un grande sentimento. A questo punto viene da chiedersi se il primo racconto, La Porta dei Sogni, non sia un'allegoria delle vicende dell'autore, in quanto il protagonista viene a trovarsi improvvisamente in un mondo surreale, a lui sconosciuto, in cui le cose e le persone esistono solo se evocate dal suo pensiero, dal ricordo. Ma in questa storia il protagonista è terribilmente solo e finisce per dissolversi nel nulla. Forse in questo c'è la metafora di cosa può accadere ad una persona che privata della realtà reale non riesce a sopravvivere con le sue sole forze. Il protagonista di questo racconto non aveva vicino la compagna di vita che ha avuto il nostro autore. Questa è una nota di un caro amico che è qui presente, che io saluto e ringrazio da parte anche di Umberto per queste bellissime parole, che è Bruno Difonzo. Io vi inizierò a leggere un breve racconto, poi lo lascerò a metà perché chiaramente dovrete scoprire voi leggendolo la fine. La forza del destino. Le risate ironiche della Iena in cerca di cibo risuonarono squallide ed isolate per la valle. Avevano un qualcosa di incompiuto, quelle risate che gelavano il sangue, quasi che ascoltassero un discorso divertente, ma che non giungeva mai alla battuta decisiva. Lui però non si sentiva una Iena come gli altri del branco, ma qualcosa di più. Gli piaceva pensare di essere un lupo, come quello che aveva scrutato poco distante da loro. Erano ben diversi i lupi. Lui li ammirava e tanto. Gli sarebbe piaciuto possedere lo stesso portamento eretto e fiero della lupa che aveva visto crescere sin dalla tenera età, nell'età ne poco distanti dalle loro. La lupa era diventata adulta e si era trovata un compagno. Lo aveva scelto tra molti, un bel giovane lupo dall'aspetto fiero, che doveva essere stato ferito da una freccia scagliata da un uomo in una notte tempestosa, vista la brutta cicatrice che svettava sul suo dorso. Evidentemente si era rimesso perfettamente da quell'incidente, considerato come correva fiero per la vallata, cacciando lepri e altri piccoli animali che disperatamente cercavano di scapparli, impauriti dalla vista delle poderose zanne. Non come lui, che sapeva di avere solo il disprezzo delle altre creature e non il rispetto che sognava ad occhi aperti nelle lunghe notti insonni. E mi fermo qui, perché io penso che leggendolo dovete arrivare voi alla fine. Scusate. Bene, grazie Angelisa. Allora, passiamo il testimone a Pina Allegrini, che ci dovrà motivare la sua scelta, di cosa ci leggerà brevemente. Ho fatto una scelta, diciamo, molto tecnica. L'inizio, brevemente, e l'inizio dell'ultimo racconto, non la fine, perché ovviamente vi avrei guastato la sorpresa. Naturalmente, il piacere della lettura mi trascinerebbe fino in fondo, questo è ovvio, anche perché, specie il primo, è molto intrigante, per quel taglio un po' fantastico, un po' metafisico, che io amo molto. Allora, La porta dei sogni. Otto sarebbero state le ore impiegate dal Concorde per la trasvolata che lo avrebbe portato da Parigi a Rio. Otto lunghe ore di viaggio da trascorrere piacevolmente, in totale relax. E beh, piacevolmente nemmeno tanto. Alle volte l'inattività lo rendeva nervoso. Le hostess erano gentili e graziose d'aspetto. Il servizio di bordo era di gran classe. Aperitivo, cocktail di benvenuto, temperatura gradevole, cinema, telefono di bordo. Insomma, una specie di albergo a 5 stelle. C'era persino la possibilità di restare collegato al resto del mondo tramite internet. Aveva scrutato con interesse malcelato la hostess dai capelli corti, non cortissimi, color biondo cenere. Si capiva che erano naturali dalla particolare variegatura che affiorava sotto il berretto della Air France. Non erano uniformi nel colore, ma andavano... Da molto fastidio questo microfono. No, ma andavano da un biondo ceruleo ad un biondo scuro, inframmezzato da fili dorati così eterei da ricordargli la filigrana preziosa che usava per esaltare le sue creazioni. Lì, a bordo, comunque, non si poteva combinare nulla. Giusto sondare il terreno con occhiatine e ammiccamenti più o meno espliciti, tentando di stabilire un'intesa fatta di soli sguardi. Ci sarebbe stato tempo per approfondire. Decise di concedersi una pausa dal suo gioco preferito, l'ammiccamento con bionda. Premette il pulsante alla sinistra del suo bracciolo e così scese uno schermo dinanzi alla sua comoda poltrona in Alcantara. Scorse quindi la lista dei film e documentari a sua disposizione e ne scelse uno sulle isole tropicali. Indossò morbide cuffie e azionò il pulsante di avvio del documentario. Pochi secondi e si ritrovò immerso nell'azzurro del mare tropicale che, più che un mare, sembrava un acquario sconfinato, un paradiso in terra. Io a questo punto mi devo fermare perché Marco ha messo dei tempi molto rigidi e precisi anche se mi dispiace fermarmi. Umberto, scondatela con Marco. Edito, e lascia il portale. No, 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 va bene così. Andiamo a basta contare. Scusate. Esigenze commerciali. Il leggero cinguettio degli uccellini di bosco, il leggero fruscio delle foglie, gli assoli degli usignoli che si alternavano ai fringuelli, alle cince, insieme ad un lontano vocio che ricordava... Questo concerto rendeva piacevolissimo il momentaneo distacco dal mondo che era comunque lì, sulla strada, a pochi metri da loro, che se ne stavano immersi in quell'isola verde di alberi lussureggianti. Sembravano bearsi di quella natura che lì appariva non contaminata dall'inquinata fretta di tutti i giorni. Un'isola emersa in montagna a circa duemila metri d'altezza e che emanava una fragrante frescura che sapeva rigenerare. Passavano in quel mentre due ragazzi. Il cane che avevano con loro, attavicamente abituato alla difesa del territorio, abbaiò forte come era solito fare alla vista di estranei. Per un po' li seguì, tornandosene quasi subito dai suoi amati amici padroni che lì lo lasciavano libero e in armonia con la natura circostante. Un quieto pomeriggio, avulso dal contesto televisivo, senza telecamere che riprendessero, senza che lei dovesse controllare i complessi macchinari di regia, senza dover gestire ospiti in trasmissione, senza argomentazioni da analizzare, sviscerare, approfondire, fornendole all'attenzione di spettatori attenti o distratti, superficiali, telespettatori attratti da nani, da saltimbanchi, ballerine che si agitavano dai teleschermi dei grandi network. Un prezioso attimo di tranquillità che lui assaporava centellinando ogni goccia di quei momenti inaspettati in cui si trovava, senza capacitarsi di essere immerso in una sorta di Eden che permetteva di estragnarsi dal bailamme inutile e ottuso di tutti i giorni. Mi fermo qua. Grazie Umberto. Di nuovo Angelisa, vediamo un po' cosa ci vuole proporre. Io propongo a metà strada di come nasce una storia. L'immediatezza di potersi esprimere con i telespettatori attraverso gli schermi TV finiva per fargli preferire quel canale di comunicazione alla forma scritta. Sentiva però sempre più forte l'impellenza di lasciare qualcosa che andasse oltre l'impronta, comunque passeggera di una trasmissione televisiva. È così che nasce una storia, continuò a pensare. Bisogna calarsi dentro di essa fino al collo, sorprendendosi e guardandola come se albergasse in una boccia di cristallo. Tu guardi il mondo fuori, spiegandola agli altri che continuano a starti intorno. E stranamente, era ben strano, guardando dentro la boccia di vetro, quasi questa fosse una di quelle palle di vetro con un microcosmo all'interno che si può girare e rigirare. Lo si ammira, va bene, magari con curiosità, ma non lo si può toccare all'interno. Bene, la prima parte della presentazione si conclude qui, dovrei fare un altro spot pubblicitario, però va bene, te lo rispaglio. Però voglio, allora, forse non tutti hanno letto il libro, quindi adesso, sì, ecco, beh, sì, anche se bisognerebbe fare un passo indietro, io vorrei invece Don Michele, qui come in apertura degli interventi degli amici, insomma, anche per la lunga frequentazione negli studi televisivi, quindi prima la Chiesa e poi lo Stato. Venga qui, così anche gli altri interventi. Assolutamente sì. Allora, Don Michele. Grazie. Ma la Chiesa va sempre a braccetto con lo Stato. E quello è il tuo? No, con lo Stato, la società, eh? Con la società mi va bene. Sono cittadino, cioè parte viva della comunità ecclesiale, ma parte viva della comunità civile, sempre da unire insieme la città dell'uomo e la città di Dio, perché Dio ha bisogno dell'uomo, ma anche l'uomo ha bisogno di Dio. Devo avvicinare il microfono e torniamo al tema. Certo, certo. Mi è molto piaciuta la scelta della fiaba attraverso la quale si coglie sempre il nucleo incandescente della verità che altrove assolutamente non si trova. Nel greco la parola verità su cui ha scavato Timonieri Umberto è chiamata Aletia, cioè ciò che senza veli. Cosa ha fatto Umberto attraverso la fiaba? Liberamente ha liberato la verità da tutti i veli che la nascondono per poterla presentargli agli altri così com'è autentica, vera, immacolata. Un pensiero così fuggente che vale anche da una mia riflessione su questo libro che io posso definire la pagina posso definire la pagina di Umberto con un'espressione di un peta marziale pagina nostra sapit hominem la nostra pagina a sapore di umanità. In pratica Umberto anche attraverso la sofferenza che è la più grande fonte di conoscenza come fonte di conoscenza il dubbio la gioia la fede cosa ha fatto ha fatto Umberto? È diventato è un esperto di umanità così si definiva autodefiniva quell'intellettuale finissimo ma profondamente umano che risponde al nome di Paolo VI sono esperto in umanità pagina nostra sapit homo hominem al sapore dell'umanità penso che questo sia il giudizio che esprimo con la cordialità del cuore e anche con la intelligenza del cuore perché il cuore è anche pensante ok